Chiesa di Sant'Alfonso La parrocchia di Sant'Alfonso è relativamente giovane e la sua storia è piuttosto recente. Sorge in un quartiere rurale di grande espansione urbanistica, circondata da ampi spazi verdi. È stata dedicata a Sant'Alfonso Maria dei Liguori per onorare la memoria di Alfonso Maina che donò il terreno su cui è sorta. Si articola in due parti distinte, la chiesa e la canonica con gli uffici pastorali e i locali per il ministero e le attività giovanili. L'interno è a una navata e termina in un ampio e luminoso presbiterio semicircolare. La mensa dell'altare proviene dalla Cappella Gentilizia del Carmine di Casa de Vita Camera. A sinistra dell'altare il tabernacolo, a destra la fonte battesimale posta in asse con la mensa dell'altare, sottolineano la centralità del Cristo nella comunità ecclesiale. Le artistiche vetrate creano suggestivi effetti di luce e favoriscono il raccoglimento dei fedeli. La chiesa è stata affrescata da Aurel Ionescu, che ha voluto riprodurre nell'abside il fregio ancora visibile del Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte. Nel decorare la chiesa, l'artista si è ispirato alla teologia bizantina. Gli affreschi di Aurel sono pagine aperte sul mistero di Dio, di perenne catechesi, di silenzio e di meditazione. La chiesa è stata affrescata da Aurel Ionescu, che ha voluto riprodurre nell'altare,